Salve a tutti e buon giovedì da TNBT vedete sempre OP Allora parliamo dell'807 capitolo dopo due settimane di astinenza che sono state scandite da tanti eventi ecco non è questa la serie giusta per parlarne però insomma ne sono successe parecchie cose in ogni caso ecco oggi parliamo di One Piece e parliamo di questo capitolo che ci arriva ma lasciandoci un po' l'amaro in bocca personalmente ma chi conosce Oda sa che in queste cose lui è bravo nel senso c'è qualcuno che dice che allunga il brodo secondo me semplicemente fa un'ottima minestra e quindi nella minestra ci devi comunque mettere anche le cose che allungano diciamo così la faccenda che la fanno più diluita più fluida è un capitolo questo fluido ma non per questo è privo di contenuti e di informazioni anche se ovviamente le cose principali non ce le dice chiaramente ma penso che ne avremo ancora per un bel po' cover mini avventura cover scusate dalle toglie del mondo mi è piaciuta l'idea appunto di insomma che il maestro ormai campa praticamente sulla fama del suo ex allievo penso che per tutti i Mugiwara sarà così a fine manga come Albarati con Sanji mi immagino a Shiropp tutti i paesi natali i luoghi dell'infanzia di Mugiwara diventeranno penso alla fine del manga dei veri e propri tra virgolette santuari della ciurma del futuro re dei pirati ma comunque a parte queste piccolezze poi neanche troppo piccolezze parliamo proprio del capitolo allora allora cominciamo dal principio cominciamo dal principio facendo vedere appunto Oda ci mostra innanzitutto il gruppo dei samurai che sono praticamente tornati al punto di partenza quindi insomma non ne avremo quindi a conferma di come ecco forse sta allungando un pochino il brodo sotto questo aspetto per il resto vediamo la tavola con tutti gli animali che sono disegnati in puro stile odiano e qui devo dire che l'influenza di Dragon Ball si sente pesantemente mentre appunto il tratto è sicuramente molto diverso da quello di Togashi che a me personalmente come tratto non piace preferisco lo stile un po' più caricaturale un po' più fiabesco che ha Toriyama che è maestro nel disegnare gli uomini animali perché in Dragon Ball è pieno di visoni tra virgolette se noi così vogliamo dire proprio la citazione a Dragon Ball nella caratterizzazione grafica dei visoni secondo me è quanto mai palese Dragon Ball non solo ecco mi ha ricordato un po' anche Thriller Bark proprio per come sono disegnati anche gli zombie animali di Thriller Bark che erano molto simili vedendoli tutti fasciati almeno mi hanno ricordato molto gli zombie di Thriller Bark proprio per le fasciature e l'aspetto al di là di questo ecco abbiamo risolto uno dei punti cruciali come voleva si dimostrare o meglio era difficile dimostrarlo a priori a posteriori abbiamo scoperto che la gag piace la gag piace a Oda lo sappiamo c'è chi pensa che il fatto di Sanji sia una gag io alla luce di questo capitolo non credo sia una gag c'è anche questa possibilità di cui parleremo tra poco però abbiamo visto tra virgolette che un'altra cosa era una gag ovvero il fatto dei defunti compagni ora io le versioni che ho che leggo sono generalmente quella del Loopy Team non so se la traduzione fosse esatta ma io avevo sentito parlare Wanda dei corpi dei defunti compagni qui scopriamo che il defunto era rivolto solamente a Bruc ora io non voglio entrare nel merito di traduzioni polemiche eccetera però se la traduzione era giusta allora Oda è un po' bastardo nel senso che ci dice le cose in maniera travisata per farci credere tutt'altro ecco se se avesse detto se Wanda avesse detto il corpo del vostro amico defunto immaginarsi Bruc era abbastanza dico ipotizzabile però lei ha parlato al plurale quindi ecco quando ha detto di Sanji poi nello scorso capitolo si era capito che c'era qualcosa che non va perché prima si riferisce al plurale poi al singolare però ecco potrebbe essere semplicemente una trollata questa volta vera e propria di Oda che ha voluto mandarci in confusione le idee mandarci fuori strada e poi per scoprire che era tutta una gag dovuta al fatto delle ossa di Bruc tra l'altro non solo questa non solo questo ma anche il fatto che lui venga comunque desiderato tra virgolette dalla cagna appunto Wanda per per il motivo appunto che è fatto di ossa ci sta questa cosa mi ha fatto mi ha fatto abbastanza sorridere lì quando ho visto la faccia di Wanda tutta che sbavava tra virgolette è stato abbastanza divertente ecco per dare a riprova che comunque i secchi vincono forza Bruc almeno per quello poi dopo niente Nico Robin insiste con il voler sapere cosa è successo negli ultimi 11 giorni abbiamo un po' più chiare le tematiche abbiamo vediamo il flashback mi è piaciuto mi è piaciuto l'attacco di squadra che appunto la squad la sunny squad ha fatto ai danni della nave di Big Mom nave canterina che secondo alcuni appunto è una nave che possiede un frutto a me sembra una cosa molto abbastanza improbabile perché comunque la nave deve stare a contatto con l'acqua ma a parte questo abbiamo le conferme di Capone in ciurma di Big Mom ok mi è piaciuto vedere come la ciurma è riuscita ad opporsi alla nave di Big Mom perché Sanji a parte è stato un lavoro di squadra quindi si sono tutti resi utili per una volta si è visto Brook Chopper Nami rendersi attivamente utili in una battaglia contro la nave di uno dei quattro imperatori quindi ecco forse questi due anni effettivamente poi sono serviti meno male meno male che insomma Oda ogni tanto ci mostra i miglioramenti un po' di tutti ecco è stata una bella una bella scena non particolarmente importante però comunque forse potrebbe adesso ci arriviamo essere anche importante allora arriviamo a parlare di Sanji tra un pochino però prima ecco parliamo un pochino delle tempistiche avevo visto un post interessante fatto in una pagina di One Piece c'è una conferma a quello che avevo detto io all'inizio cioè che mi aspettavo un ruolo importante per quanto riguarda Chopper in questa saga e sembra essere stato così non so se la corona sia un caso o meno comunque Wanda fa riferimento esplicito alle cure di Chopper e quindi tra virgolette ha salvato molti probabilmente dalla morte molti visoni dalla morte e fa riferimento anche al coraggio dinamiche in questa cosa invece non ho capito bene a cosa si riferisce tra l'altro manca qualcuno manca Caesar Clown all'appello che non è sicuramente un personaggio da prendere sotto gamba mi chiedo se la sua sparizione possa momentanea lo rivedremo nel prossimo capitolo se magari potrebbe lui essere entrato in contatto con qualcuno o Sanji lo ha portato con sé o magari è entrato in contatto con Raizo non lo so le ipotesi da fare qui sono tante e ancora purtroppo abbiamo pochi elementi per poter fare una teoria su questo cioè si possono fare 10.000 ipotesi ma poi concretamente preferisco ragionare più sul concreto su quello che abbiamo visto prendiamo una cosa interessante cioè che c'è praticamente un doppio un doppio re a Momoko appunto nel paese di Zou quindi il duca del giorno Inuarashi e il boss viene definito uno duca e uno boss quindi questo potrebbe già darci un indizio sulle differenti personalità e stile magari di questi due signori il boss notturno Nekomamushi che dovrebbe essere il capo anche dei guardiani essendo Beppo alle dipendenze dei guardiani e a loro volta questi probabilmente sotto Nekomamushi abbiamo sentito già nello scorso capitolo il fatto che Rufi viene considerato fortunato perché arriva lì di giorno e non di notte quindi magari quando questo Nekomamushi è in giro allora Nekomamushi gatto vipera lo sappiamo io non sono un mago delle traduzioni adesso sicuramente altri spiegheranno meglio il nome meglio di me quello che è semplice intuire però che Inuarashi Inu è H Inu Inuyasha quello che volete insomma Inu vuol dire cane quindi se uno è il gatto vipera l'altro probabilmente è il cane qualcosa quindi cane e gatto come sempre vengono messi agli antipo di uno alla notte uno al giorno chissà che rapporto hanno fra di loro probabilmente un rapporto magari di rispetto ma non troppo di amicizia io credo ecco Nekomamushi è un po' come me vive di notte io vado a letto alle 3 alle 4 di notte mi sveglio a mezzogiorno come oggi quando è uscito One Piece ecco sono curioso di vedere questo Inuarashi perché potrebbe essere secondo me magari un personaggio non magari particolarmente forte ma comunque di grande carisma sono curioso di vedere sia lui che Nekomamushi che comunque ripeto potrebbero non essere i più forti magari i guardiani sono più forti dei boss potrebbe essere così comunque queste sono tutte le azioni parlando del del capitolo è sospetto lo sguardo di Lowe a mio avviso lo sguardo di Lowe che fa quando rivede Beppo chissà che loro sappiano qualcosa in più comunque la cosa che l'altra conferma che ho avuto di quello che mi che mi aspettavo è il fatto che il personaggio che Jack sta cercando che Jack potrebbe a questo punto essere il mammut che vediamo ma potrebbe anche non esserlo è proprio Ryzo perché Jack potrebbe non essere il mammut secondo me diciamo che gli zone artificiali che abbiamo visto hanno una forma finora abbiamo visto un testa di pecora avere una forma ibrida abbastanza strana cioè lui le braccia le trasforma in corna mentre questa è una cosa che non abbiamo mai visto fare agli zone normali quindi uno zone del mammut così quello che sembra effettivamente un mammut vero al 100% se è uno zone artificiale mi sembra un po' strano dovrebbe essere uno zone puro e forse forse dico forse magari i sottoposti più forti di Kaido hanno proprio degli zone veri non quindi smile però ecco queste sono tutte le azioni Jack potrebbe essere il mammut come potrebbe non esserlo personalmente questa idea del mammut non è che mi piace molto ma non mi sento neanche discluderla ad oggi spero comunque che nel prossimo capitolo vedremo meglio quello che è successo sappiamo che Jack è arrivato 17 giorni fa quindi è stato a devastare il regno una settimana prima dell'arrivo di Sanji e gli altri e per questo che io ho sempre pensato che a mio avviso è difficile che Sanji possa aver incontrato Jack io ho detto che sicuramente escludevo ho sempre escluso l'ipotesi del rapimento come ho detto già nello scorso video commento perché perché se Sanji fosse stato rapito sarebbe dovuto essere sulla nave di Jack e da quello che noi sappiamo Jack le ha prese da Fugitora Sengoku Kutsura eccetera quindi avendo le prese Sanji prigioniero sulla sua nave la nave è andata probabilmente in frantumi uguale Sanji morto in mezzo al mare ecco magari incatenato quindi è una una cosa secondo me del tutto inverosimile era che Sanji fosse stato rapito e infatti sembra aver avuto la conferma la mia tesi che non è effettivamente così avrei preferito magari vedere Sanji per qualche ragione in stato comatoso lì a Zou però non è stato neanche così quello che sappiamo è che Sanji si è allontanato da solo a questo punto l'ipotesi della gag secondo me è quotata al 20-30% potrebbe essere invece qualcosa di molto più serio legato probabilmente alla questione della taglia visto che Brook sembra aver avuto notizie della sconfitta di Doflamingo eccetera quindi magari anche Sanji e gli altri hanno visto quello che è successo hanno visto le loro taglie Sanji ha visto la sua taglia magari gli è scattato qualcosa che deve risolvere è comunque interessante che Oda abbia deciso di concentrare un po' l'attenzione su questo personaggio che vi ricordo è uno dei personaggi più amati in assoluto quindi già è parecchio tempo che non lo vedevamo a Zou abbiamo scusate a Dressrosa abbiamo visto molto in luce Lowe abbiamo visto Sabo che dal nulla è balzato tra i primi posti nei sondaggi di gradimento non è un caso perché Oda è furbo nel senso che ovviamente non ragiona solo in questi termini ma sicuramente il mostrare personaggi incentrare la storia su personaggi particolarmente amati dal pubblico dai lettori è una strategia un po' anche di mercato quindi tutto questo hype intorno a Sanji crea ancora più più suspense e più dibattito sul manga di One Piece che è già un manga molto discusso a questo punto vedere un Sanji prigioniero sarebbe stato un po' troppo una remake però di è in his lobby quindi Robin e tutta la vicenda che abbiamo visto per non dire che Robin già a sua volta era un remake di quello che era successo a Nami ad Arlon Park anche se molto più elaborato quindi ecco non riuscivo a immaginare uno scenario del genere c'è però sicuramente qualcosa sotto voglio citare qui il mio collega Andrea Cuccagna un ragazzo molto simpatico che fa video non è seguitissimo infatti vi consiglio di seguirlo più spesso perché è un bravo ragazzo fa delle ottime analisi anche lui su One Piece Andrea Cuccagna oggi in Skype mi ha chiamato abbiamo parlato del capitolo mi ha fatto notare una cosa che a me era sfuggita nel capitolo 651 noi vediamo Sanji pensare a Big Mom come una bella donna che dice se tu mi cucini mi fa impazzire insomma una cosa del genere ora se fosse questo il motivo anche il buon Cuccagna insomma ritiene la cosa poco probabile però pensandoci magari Sanji se avesse avuto voglia di di provare a conoscere Big Mom avrebbe potuto farlo prima però prima erano sotto attacco c'era tutto un discorso particolare eccetera questa potrebbe essere effettivamente la soluzione gag migliore cioè Sanji che decide di partire per conoscere questa strafiga nella sua mente ovviamente che è Big Mom per poi ovviamente rimanere deluso però ecco ai fini della storia sicuramente rimane un po' una teoria che fa un po' acqua da diverse parti non avrebbe particolarmente senso quindi ecco questa è l'ipotesi secondo me gag per quanto riguarda l'eventuale gag di Sanji possibile altrimenti vuol dire che c'è qualcosa di serio e qui lascio la parola a voi perché voglio rifarmi un po' le idee anch'io sentendo i vostri pareri e i vostri commenti ultima questione sulla quale abbiamo sempre più conferme ormai mi sembra inutile rivangarci troppo il discorso che feci nello scorso video wa wano kaido zou a questo punto sembra ancora più chiaro come non solo i rapporti siano in crisi tra kaido e i samurai e tra kaido e zou ma anche tra zou e i samurai sembrano esserci buon sangue quindi è un po' un triangolo di di nemicizia reciproca da tutte e tre le parti questa cosa è molto interessante perché perché rufi sappiamo benissimo qual è una delle sue principali dote si fa amici tutti e il suo carisma affascina tutti quindi dopo aver contribuito a legare parzialmente gli uomini pesce con gli umani anche se è stata più una una cosa unilaterale a fishman island il ruolo di rufi potrebbe essere proprio quello di creare un ponte una sorta di di tramite tra proprio questi due paesi non federati con il governo che sono zou e wa mi aspetto molto mi aspetto spero molto da raizo visto che finora i samurai mi hanno abbastanza deluso lo dico perché io mi aspetto sempre personaggi di un certo tipo questo raizo che è lì da più di tre settimane ormai e che nessuno sembra averlo averlo visto effettivamente potrebbe essere a questo punto un buon ninja ricordiamoci che i ninja sono guerrieri che agiscono nell'ombra attaccano dall'ombra nell'ombra insomma sono bravi a non farsi vedere e raizo sembra effettivamente un buon ninja mentre kinemon e kanjuro non è che sono secondo me il fior fiore dei samurai quindi potrebbe essere proprio raizo il boss tra virgolette del gruppo quello che ha la missione più importante da compiere proprio lì a zoo e qui mi leggo sempre al tema di momonosuke come mai un bambino in mezzo a tutta questa gente e i punti di domanda qui aumentano però eccomi mi aspetto parecchio da raizo che potrebbe essere il migliore del gruppo quindi rufi da tramite tra questi vari paesi e non solo ma questo potrebbe sicuramente portare cappello di paia allo step successivo cioè l'essere riconosciuto sulla carta come un personaggio alla pari dei quattro imperatori pur non secondo me rufi non accetterà mai il titolo di imperatore perché non è quello a cui punta così come non avrebbe accettato il titolo di flottaro eccetera lui punta a diventare il re dei pirati e basta quindi ecco magari un imperatore di fatto anche se non sulla carta ecco queste sono un po' le mie prime considerazioni a caldo su questo capitolo sul rapporto che c'è tra i samurai zou wano sicuramente ci tornerò ci torneremo ci torneranno in tanti nella community quindi ne parleremo abbondantemente sono contento che non ci sarà pausa settimana prossima e spero che parta un bel flashback uno di quelli corti ma intensi che odas ha dimostrato di saper fare bene adressrosa con questo vi saluto vi lascio sempre i link in descrizione video sul tennis continuano su one piece e tutto il resto quindi un saluto da tnbt alla prossima buon one piece e buon giovedì bless ciao